Presidente Marsilio, questione acqua del Gran Sasso, qual è la situazione anche alla luce delle ultime vicende? Abbiamo investito il Governo attraverso una delibera di giunta nella necessità di valutare l'opportunità di nominare un commissario. Noi crediamo che sia assolutamente opportuno, lo facciamo con spirito collaborativo nei confronti del Governo nazionale che abbiamo avvisato per tempo e con il quale stiamo interloquendo. Siamo pronti a sederci a tutti i tavoli portando i nostri studi, quelli che la Regione ha già fatto in questi anni, ma la Regione più che produrre questi studi e fare delle stime sommarie su il tipo di opere e i soldi che servono per poterle realizzare non può fare perché non è proprietaria né dell'autostrada né dei laboratori e quindi da questo punto di vista è difficile che possiamo fare un passo in più rispetto a quello che c'è. Poi c'è una situazione giuridica che è un unicum nel mondo con questa presenza contemporanea di faldi acquifere e attività di questa natura che devono essere tutte meritevoli di rispetto, tutela e valorizzazione perché né vogliamo chiudere l'autostrada e il traforo e bloccare l'economia e il diritto alla mobilità degli abruzzesi, né vogliamo assolutamente fermare l'attività dei laboratori di cui anzi siamo orgogliosi, è un vanto internazionale per l'Abruzzo, né tantomeno vogliamo mettere a rischio o interrompere la fornitura di acqua potabile per le province di L'Aquila e Teramo che escono da lì e voglio rassicurare tutti, sono costantemente monitorate e sorvegliate quindi le acque che vengono distribuite nei nostri acquedotti sono acque sane, pulite e controllate. Però naturalmente questa coesistenza contemporanea è ravvicinata, più che ravvicinata praticamente contigua e questi laboratori e questa autostrada sono immersi dentro la falda acquifica, meritano un sistema di sicurezza ancora più stringente con interventi e spese molto impegnative che devono essere reperite rispetto alle quali i tempi stretti meritano secondo noi anche un'adozione di poteri commissariali che possano accelerare poi tutta la complessa procedura di realizzazione di questi investimenti. A proposito di tempi stretti, quando potrebbe arrivare questo commissariamento? Questo chiedetelo al Governo, ora noi ci siamo mossi nei tempi più rapidi possibili per anche offrire al Governo un supporto istituzionale a questa richiesta e una giusta azione da parte della Regione di rappresentanza dei problemi del territorio nei confronti del Governo nazionale.